Amici e amiche di Sportme, benvenuti a Gescal Taormina, quarta giornata del campionato Under 15 regionale. Patroni di casa che si presentano con Dell'Acqua, De Gregorio, Lamalfa, Capizzoto, Lupi, Marretta, Cariddi, Atigia, Lazzarotto, Morabito e Pagliaro. Rispondono gli ospiti con Raffone, Modeo, Colozzi, Miduri, Restuccia, Mazzeo, Ruggeri, Alessandra, Piccolo, Caffarella e Amanti. Incontro che sarà diretto dal signor Vincenzo Chiarella della sezione di Messina. Tutto pronto per il calcio d'inizio, battuto dal Gescal. Segue un pallone Marretta che adesso si defila, prova il traversone che però si stampa sul palo. Arriva a supporto Lazzarotto che manda alta la sfera. In attacco ancora il Gescal, c'è la chiusura del Taormina, poi arriva la conclusione diretta in porta, blocca Raffone. Spinge sulla sinistra Marretta che prova a liberarsi di un avversario, la finita del 6 che ora prova il tiro. Pallone che però termina fuori. Calcio d'angolo, Gescal stacca De Gregorio che insacca il vantaggio. La sblocca con il numero 2 il Gescal. Rivediamo il cross per De Gregorio che ha anticipato tutti e ha realizzato il vantaggio. Morabito cerca spazi sopra un avversario, lascia partire il Mancino. Parata facile per Raffone. Punizione Taormina, Ruggeri va diretto in porta ma colpisce la traversa. Sul pallone arriva Piccolo che però viene murato dalla difesa del Gescal. Grande rischio per i padroni di casa. Stoppa di petto Marretta che ha addosso un avversario. Ancora Marretta in area di rigore. C'è il dribbling e poi il tiro che però non c'entra alla porta di Raffone. Comincia il secondo tempo, batte il Taormina. Punizione Gescal affidata a Lupi che prova la conclusione centrale. Para tranquillamente Raffone. Restuccia controlla il pallone. Poi trova un corridoio perfetto per Caffarella che scatta. Ancora Caffarella va al tiro. Murato da De Gregorio. Riceve Pagliaro che allarga nella zona di Lazzarotto. Sfonda a sinistra il 9. Mette un traversone in mezzo. Non ci arriva Cariddi. Poi a supporto va Capizzotto che non c'entra allo specchio della porta. Insiste il Gescal che vince un altro contrasto. Pallone recuperato dalla Malfa che si accentra ancora la Malfa. Manca di un soffio il raddoppio. Sostituzione nella Taormina. Esce Alessandra. Entra al suo posto. Costa. Lancio lungo del Gescal. Viene servito sulla sinistra Cariddi che adesso può correre. Punta un avversario. Poi trova il filtrante per Pagliaro che controlla in aria. Ancora Pagliaro. Non trova la porta. Pallone buono per Cariddi che ha spazio sulla sinistra. Ancora Cariddi. Si sposta il pallone. Va al tiro. Risponde Raffone. Poi ancora il 7. Ad insaccare il raddoppio del Gescal che segna ancora qui al Gescal Stadium. Rivediamo la prima conclusione di Cariddi. Respinta da Raffone. E poi il tap in. Vincente col destro. Che va al suo il 2 a 0. Cariolo pressato da Pagliaro che recupera il possesso. Sopra un altro avversario. L'11 e si invola verso la porta. Ancora Pagliaro. Punizione Taormina affidata al sinistro Diamanti. Pallone che termina fuori. Rindio per il Taormina. Recupera però il Gescal che adesso ci prova con questo filtrante. Colpo di testa interessante per Cariddi. Che insacca così il 3 a 0 Gescal. Doppietta per il numero 7. Rivediamo il pallonetto di Cariddi che ha superato Raffone per il 3 a 0 del Gescal. Corner per il Gescal si gira De Gregorio e fa 4 a 0. Doppietta anche per il difensore del Gescal. Che va ad esultare sotto la tribuna. Rivediamo il cross perfetto per De Gregorio che ha impattato col destro e ha battuto Raffone. Cambio per il Taormina. Qualberti prende il posto di Colozzi. Riceve Lazzarotto che scarica nella zona di Barbaro. Si defile il 19 e poi va al tiro. E manca di poco la porta. Marretta prova a liberarsi sulla sinistra. Vince un altro contrasto il 6. Poi prova il traversone. Che però non trova nessuno in area di rigore. Ancora in attacco il Gescal. Ma poi arriva il triplice fischio di Chiarella. Gescal che supera il Taormina per 4 a 0.